E' stata inseguita in macchina. Diana, come si sente? Non lo so, è tutto buio. La riabilitazione ti renderà autonoma. E cosa vedi? Una ragazza che corre con le cuffie, un furgone bianco patteggiato. Cosa? Un furgone bianco patteggiato. L'unico sopravvissuto è il bambino di 10 anni che si trova in un istituto d'accoglienza. Posso aiutarti? È il furgone bianco! Hanno ammazzato due polizonti davanti a casa tua. Aiuto! L'unico sopravvissuto! Sì! Grazie a tutti.